Paola Saulino avrebbe compiuto una promessa nel caso in cui in Napoli fosse andato a vincere lo scudetto di Serie A. Quale sarebbe questa promessa che la bella, brava e simpatica Paola Saulino la povedana d'occa verace avrebbe fatto? Quella di fare un tour in bus nuda nella città natale proprio Napoli nel caso in cui avesse vinto lo scudetto. La promessa però, da come si legge su web, verrà effettivamente parlando mantenuta a scuola di spalletti, infatti ha stravento il titolo e per problemi di viabilità di influenza era optato di farlo però utilizzando una variante di pezza. Di cosa si tratta nella fattispecie concreta? Bene, in pratica festeggerà lo scudetto domenica allo stadio Diego per mando Maradona mantenendo la promessa ma per colpa di problemi relativi al traffico veicolare lo farà a piedi tra la folla, non tramite la folla, per andare a gioire e godere insieme a tutti quei tifosi in un momento così straordinario, magnifico, epico e piacevole che ha visto la vittoria del Napoli attraverso il relativo scudetto. Bene, complimenti a Paola Saulino, il video di termine acqua, iscrivetevi, se ne va commentate, ci sono il vostro narratore italiano, Paola Sino, se ne è veramente meravigliosa, se è straordinaria, se è una donna unica e affascinante, oltre che davvero straordinaria, iscrivetevi al canale, questo canale non vuole, questo video non vuole, avete la previsi di Paola Saulino e di altre persone, ma solo informate e stoppe. Lascio solo per questo motivo e per questa ragione e non per altri motivi. Ciao a tutti.